Grazie Presidente, Governo, colleghi. Come sempre succede, le tematiche del Consiglio europeo più sponsorizzate, come in questo caso quella delle misure per il lavoro giornalile, palesemente inadeguate per l'emergenza in atto, servono solo a nascondere il vero tema del Consiglio europeo di giovedì, cioè il completamento dell'Unione economica e monetaria e in particolare dell'Unione bancaria. C'è da dire che tra le migliaia di fallimenti provocati da questa gestione oligarchica del processo di unione degli Stati europei, l'Unione bancaria è forse l'unico procedimento che ha funzionato bene. Naturalmente non lo diciamo noi, gli inesperti, ma prendiamo a riferimento uno studio molto più autorevole del Politecnico di Zurigo, pubblicato su Science News all'inizio del 2012. Lo studio in questione, The Network of Global Corporate Control, identifica la rete del potere bancario con dati scientifici. Sono state analizzate le connessioni esistenti tra 43.000 multinazionali attraverso l'analisi dell'incrocio di partecipazioni azionarie. L'analisi evidenzia che un gruppo di 1.318 società si situa al centro del commercio globale. Esso controlla il 50% del ricavo operativo di tutte le multinazionali. All'interno di questo gruppo è stato individuato un nucleo ancora più ristretto, composto da 147 multinazionali, delle quali ben il 75% sono istituti finanziari, ovvero banche. Questa superentità controlla circa il 40% del valore complessivo delle multinazionali. In cima alla lista figurano la Barclays Bank, la Britannica, le banche svizzere UBS e Credit Suisse, la Deutsche Bank nella top ten. Per non parlare delle arcinote Morgan Stanley e Goldman Sachs, della quale Mario Monti era ottimo consulente. La prima delle italiane è Unicredit, al 43esimo posto. Interessante notare anche AXA, prima in Francia. Direttore di AXA, Enri de Castrie, è stato anche direttore esecutivo dell'ultimo meeting Bilderberg. Interessante anche notare Eni, magari Fassina lo ricorderà anche meglio di me. E Nestlé, finanziatore della fondazione privata Vedrò, fondazione che lei conosce benissimo, signor Letta, fondazione che tutto il governo conosce benissimo. Dal momento che esprime sei degli attuali ministri, scusate cinque, volevo dire, visto che le dimissioni dell'unica politica tedesca che evade le tasse, guarda caso lo viene a fare proprio in Italia. Naturalmente parlo di Josefa Idem. Ho richiamato questo studio perché ci fa capire quanto per questo governo sia di vitale importanza ciò che viene deciso dai soliti quattro o cinque burocrati europei, perché le loro scelte sono le uniche cose che vi tengono in vita. Noi stiamo fallendo, state fallendo. Non avete una idea, una, di cosa fare e da dove cominciare. I cittadini hanno difficoltà a soddisfare i propri bisogni primari e noi continuiamo con la stessa politica di sempre. Non so se avete approfondito la questione, ma state semplicemente continuando con le politiche del governo Monti, né più né meno. Mai, mai, mai una scelta forte, mai una presa di posizione di carattere degna del nostro Paese. In questa fase abbiamo bisogno di scelte coraggiose e non di personaggi asserviti al sistema e per giunta con il carisma di Topolino. 2.000 miliardi di debito con 100 miliardi di interesse all'anno. Ma che cifra è? Di cosa vogliamo tagliare più per ripagarlo? Potremmo diventare il primo popolo di nudisti del mondo dal momento che ci sono state tolte anche le mutande. Hanno scritto tanti libri su come salvare l'euro da se stesso. Anche altri deputati mi dicevano di salvare l'euro a tutti i costi. Più Europa. Manca solo un libro, uno solo. Un libro che parli di come salvare i cittadini dall'euro. E questo è il libro che vorremmo scrivere tutti. Lei è sempre impegnato a fare il giro delle sette chiese per assicurare i padroni europei e forse non sa delle leggi che sono in discussione nelle nostre commissioni. Ad esempio le segnalo e segnalo a tutti che in Commissione Affari Sociali si discute delle donazioni del proprio corpo post mortem, argomento di primaria importanza per i cittadini italiani. Sicuramente se ne ricorderà quando magari l'Europa ci proporrà la privatizzazione forzata della sanità. Allora, noi possiamo parlare di qualsiasi cosa, di tutto lo scibile umano, ma la prima e unica domanda alla quale lei deve rispondere, signor Letta, è una. E glielo faccio vedere per farle capire bene. È questa. Chi è il proprietario della moneta? Lei mi deve dire questo, il popolo? Chi altri? Le vostre banche private europee? Se il popolo è il proprietario, allora nei confronti di chi abbiamo questo debito? Chi l'ha contratto e a chi dobbiamo pagarlo? Ditelo una volta e per tutte! Allora, noi ce la prendiamo gli uni con gli altri perché non riusciamo più a vedere responsabili. Gente che da più di trent'anni guida allo sfascio questo Paese e ne vende pezzi di sovranità in Europa, li svende. I nomi dei responsabili non li ripetiamo perché i nomi dei responsabili sono i vostri. Guardi, glielo dico come fossi suo nipote. Lei è davanti a un bivio. Ogni politica di centralizzazione europea ha miseramente fallito. Le promesse che lei ha fatto durante il suo discorso di insegnamento alla Camera non le potrà mantenere. Purtroppo dovrà reintrodurre l'Imu, dovrà aumentare forzatamente l'IVA e poi c'è l'inelegibilità del criminale Silvio Berlusconi con il quale lei governa e che lei ha definito una persona corretta. Ma si rende conto. Però lasciamo stare la polemica. Lasciamo stare la polemica perché, dall'altra parte, lei ha la verità. Lei ha la possibilità di intraprendere un cammino di salvezza per questo Paese, aggredendo le vere cause che generano il debito pubblico, magari chiedendo la deroga del 3% del rapporto deficit-pill che viene imposto dal patto di stabilità, ovviamente senza ricorrere a trucchetti di bilancio e poi anche ridiscutere della sovranità monetaria. Queste non sono parole nostre, non sono scelte del Movimento 5 Stelle, sono necessità di tutti, di tutti i cittadini. Io sono qui a 20 metri da lei perché qui ci hanno mandato i precari, i disoccupati, i disperati, i giovani a cui è stato rubato il futuro, perché dovevamo darvi questi messaggi per conto loro. Se non ci ascoltate, se ancora una volta vi tapperete le orecchie a queste richieste finali, ripeto, finali, se non lo farete questo Governo, tempo 4-5 mesi, finirà e poi arriveranno direttamente loro, i cittadini, a chiedervelo. Se lei non sarà in grado di fare le azioni giuste, oneste, che il Paese vi chiede, allora non vi resterà che chiamare i vostri elicotteri e andare via. E in quel caso l'unica cortesia che vi chiediamo, prima di uscire, spegnete la luce. Grazie. Grazie.